Sei pronto per stasera tu? Tanto, tanto. Sai che hai questi due partner che sono gli ospiti di questa sera che sono viti in stanza, no? Gli hai già visti, felviti, no? Voi venite direttamente sul palco, no? Veniamo sul palco. Bene. Allora bello casco? Serto. Ok. Una bellissima serata. Bene. Allora... Hai visto che Gnocchi è sul vero? Luca? Ma sai che io Luca lo vedo molto raramente perché io faccio la prima parte, no? Del Village, mi occupo di tutto. Ma vittimiamo di... No, non ho conosciuto, ma certo. Non l'ho avuto, è vero, Luca. Io te non avevo mai avuto modo di incontrarsi molto. Tanto, secondo la sera ho detto ad Andrea, mi ha detto, portami col solto, portami col solto e lo voglio conoscere. Ormai stavamo già a metà Village, oltre forse, no? E quindi non l'avevo mai incontrato. Per il prossimo anno ormai, dai. E' il tuo prossimo anno. Magari, non lo so, potremmo fare una rara insieme e poi... E' vero? E poi dovremmo di stare con te. Non l'intervento mai. Non l'intervento mai mai, guarda. Non l'intervento mai, no. Non l'intervento mai mai. Allora, l'altro momento è, anche con Luca il National Time, il nostro dirigente diventò il sabato, l'intervento alla Village, insomma, la mezzanotte? Esatto. Abbiamo... Quindi, più o meno, assieme a Leonardo, ovviamente... Mi racconti giusto, per favore, il microfono anche a Leonardo? Mi racconti a Leonardo. Ecco, no. E devo dire, Luca veramente...